Eccoci, siamo in diretta proprio in questo momento con Arezzo TV, quindi grazie di questa ospitalità alla Casa delle Energie. Perché siamo qua? Perché è una serata importante attraverso la quale cercheremo di raccontarvi quello che è Tecla Ollus e soprattutto di portarvi, insomma speriamo, dalla nostra parte proprio per sostenere i progetti di Tecla Ollus. Quindi io intanto ci farei un piccolo applauso perché abbiamo una platea veramente molto bella questa sera. Ovviamente l'applauso va a chi ha raccolto l'invito di Gabriella Rossi che è la presidente di Tecla Ollus. Un primissimo saluto a te Gabriella, insomma veramente bello vedere come la città ha risposto al tuo appello. Sì, veramente sono emozionata, vi ringrazio tutti di cuore di essere qui perché per me è una gioia essere sostenuta da tutti voi e è la forza che mi dà per poter andare avanti. Intanto un po' di emozione la cogliamo nelle primissime parole di Gabriella, ovviamente poi avremo modo di conoscere tutti i progetti nel dettaglio. Io so che il primissimo saluto però lo facciamo fare proprio a Piero Franchini che già stava fuori onda, devo dire, intrattenendo gli ospiti qui della Casa delle Energie di Arezzo. Questo è un luogo magico, ha una sua storia, insomma, e già questo racconta molto. Però, Piero, la tua esperienza in Madagascar merita davvero, insomma, due parole di inizio così, anche per capire il territorio dove appunto Tecla interviene. Sì, dunque, il territorio è due volte e mezzo l'Italia, quindi è un'isolona, questo fagiolone, diciamo, che purtroppo ha grandi necessità perché lì veramente c'è poco. Gabriella, quando si è molto stupita, quando è tornata, si è dovuta lavare una volta ogni sette giorni perché lì manca l'acqua, manca la luce, ma quelle sono le cose, diciamo, meno necessarie perché si può vivere con l'acqua, no, ma senza la luce si può vivere. E quindi perché noi non vivremo, ma loro vivono tranquillamente, anzi, loro sono contenti di non avere frigoriferi perché mangiano subito la roba fresca, quindi sono contentissimi. Quindi, ecco, è un paese di circa 17 milioni di abitanti e quindi non sono moltissimi e per questo forse pagano anche il fatto di non poter fare grossi investimenti lì perché è molto grande, molto sparso, quindi, diciamo, una densità di popolazione proprio molto, diciamo, estesa. Quindi, ecco, hanno provato gli americani appunto a farci delle fabbriche per tingere i ginze perché non è che andavano lì per farli fare lavorare, ma per tingere i ginze. Poi quando si sono accorti che forse sporcavano inutilmente quel posto perché effettivamente dice che per tingere questi ginze era una cosa indescrivibile e quindi avrebbe danneggiato, alle fine hanno chiuso tutte le fabbriche. E quindi, ecco, niente, questi bambini hanno bisogno di tutti. Ma io ti volevo chiedere, che emozione è per, perché io conosco la tua storia personale, l'ho seguita per lavoro e anche, insomma, comunque per amicizia personale, che emozione ti dà essere qua stasera e dare una mano a questi bambini assieme, ovviamente, a Gabriele? Io ho un'emozione indescrivibile e non mi fare queste domande perché sennò mi commuovo. E quindi, ecco, so quello che effettivamente fa la Gabriella e quello che, per dire, per qualche po' di tempo ho fatto anch'io, per 14 anni, ho passato lì circa un anno e mezzo, grosso modo. E quindi, ecco, vi dico che lì c'è bisogno di tanto. I bambini, voi pensate che lì quei pochi bambini che vanno sulle scuole spesso e volentieri sono andato lì per, io faccio l'ottico, quindi andavo per controllare la vista, per misurare la vista e la prima cosa che trovavo era, purtroppo, il maestro, quello che doveva essere il maestro, in terra, ubriaco. Quindi, ecco, voi immaginate, poverini, 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 insomma... Solo quelle gestite un po', diciamo, da noi, perché c'è una signora di Napoli che si chiama Manina, infatti potete trovare, se andate a cercarla nel sito, c'è un sito molto bello, ecco, Manina che ora attualmente ha circa 10.000 bambini che tiene quasi tutto il giorno. E voi vedete questi bambini la mattina appena fa giorno, appena fa giorno, già pronti per andare a queste scuole. Ecco, per loro è sicuramente un, insomma, davvero una grandissima occasione. So che Gabriella ha in scaletta tanti interventi. Da quale vuoi iniziare, Gabriella? Vuoi iniziare da questa, diciamo, presenza nel mondo del web. Allora, perché io ho fatto questa domanda a Piero Franchini? Perché noi vi dobbiamo emozionare, non solo coloro che ovviamente sono già qua alla Casa delle Energie e che, spero, insomma, sicuramente lo faranno, l'hanno già fatto, manifesteranno la loro vicinanza a Tecla Ollus, ma soprattutto chi è dalla parte di là della telecamera. Perché pensate che questi bambini, queste persone, possono essere aiutate con soltanto 10 euro all'anno. Questo è l'impegno, diciamo, economico per potersi tesserare con Tecla Ollus e da adesso, con grande soddisfazione, penso, della Presidente, si può fare anche con un semplice click. Perché, Gabriella? Perché, grazie appunto a Daniele Gelli, abbiamo un sito dove è possibile versare il contributo di 10 euro l'anno e si può fare tramite IBAN direttamente online. Per cui, grazie al sito www.teclaollus.it, che vorrei che dopo Daniele ce lo spiegasse, ma vorrei intanto presentare un attimo Tecla Ollus. Tecla Ollus è nata nel 2010, io sono la seconda Presidente e cerca Tecla Ollus con molta fatica di trovare delle persone locali fidate, serie, oneste, e vedrete le suore che stanno arrivando da Roma, per cercare di arrivare all'anello più debole di una catena di anelli deboli. Perché noi cerchiamo di arrivare nei villaggi dove non c'è l'accesso all'acqua potabile, dove non c'è l'accesso all'energia, dove c'è il 40% di analfabetismo, per cui l'analfabetismo è un grave problema in Africa, perché gli effetti dell'analfabetismo sono la povertà, sono l'ignoranza, sono il sottosviluppo. E poi vediamo gli anelli deboli dove c'è un'alta mortalità infantile e di parto e i ragazzi sotto i 5 anni di solito possono morire di cause prevedibili. E la cosa più impressionante è che nel 2018 ancora ci sono persone adulte o bambini che muoiono di diarrea, di polmonite, di malaria, di malattie che sono per noi curabili facilmente, con delle compresse, ebbene lì si riesce ancora a morire di queste malattie banali. Tecla Onlus lavora prevalentemente in Sierra Leone, dove ha costruito dei pozzi, qui vedete il nostro primo pozzo, poi c'è il secondo pozzo, poi c'è il terzo pozzo, perché l'acqua è un bene importante. Uno dei nostri obiettivi è quello di mandare a scuola più ragazzi possibili e questa è la cosa principale, perché dall'educazione parte tutto. Questo siamo sempre ancora in Sierra Leone. Poi la cosa più importante è che siamo riusciti a Cabala, che è nella regione di Coinaduco, a costruire una casa famiglia per i bambini non vedenti, che è l'annello veramente più debole, perché i bambini non vedenti vengono abbandonati da queste famiglie povere, sono bambini emarginati. Questi bambini, prima che avessero la casa famiglia, e hanno per la prima volta conosciuto un letto, e conosciuto che cos'è un bagno, loro vivevano in un rudere nel bosco vicino a Cabala, e c'era un capo, come si dice, bambini non vedenti, che si chiama Emanuele, che adesso ha circa 30 anni, che gli assicurava a questi bambini un piatto di riso al giorno, però vivevano nella foresta insieme ai topi. Grazie a voi, grazie a te, siamo riusciti a costruire questa casa famiglia, questi bambini, gli abbiamo assicurato due passi di riso al giorno, ma grazie a voi, non grazie a noi. Senti Gabriella, quanti bambini ospita? Cento bambini, cento bambini, e la cosa più bella che mi ha detto Emanuele quando siamo andati a inaugurare la casa famiglia che ci è andata la Nadia Conti, che è la nostra vicepresidente, ha detto, mi sembra strano che persone così lontano, che non ci conoscono, ci possono aver aiutato, per cui vedete l'innocenza dei bambini bisognosi che vedono il mondo solo lì e non capiscono che c'è un altro tipo di mondo. Questo è in Sierra Leone. Poi, ora, vedete le suore che stanno per arrivare? Questa è una risaia che abbiamo costruito a Masoà e le tre suore che arriveranno, una è la madre superiore di Masoà e ci ha chiesto di comprare un terreno per fare la risaia, perché lei ha bisogno di dare il riso ai bambini. Poi ci ha chiesto, e stiamo costruendo, grazie a voi, una casa per i bimbi da zero a tre anni. Questi bambini che sono bambini malnutriti e col piede torto, perché vogliamo fare una diagnosi precoce del piede torto per poter arrivare a una soluzione più facile, perché di solito le diagnosi sono molto tardive, per cui bisogna fare molti più interventi. Se riusciamo, e stiamo quasi terminando, perché la casa è in fase di costruzione, se riusciamo ad accogliere questi bambini da zero a tre anni, è molto più facile che il piede torto venga praticamente risolto facilmente. Ecco, Gabriella, ti fermo un secondo. Quindi non solo l'accoglienza da un punto di vista proprio umano, del calore, della famiglia, ma quindi anche assistenza sanitaria, che credo sia fondamentale. L'assistenza sanitaria si fa perché mancano gli ospedali e manca tante cose, però l'assistenza sanitaria che facciamo, io perlomeno quel poco che ci sono potuta stare, è modesta, perché purtroppo manca un pochino tutto, mancano le medicine, per cui è un'assistenza relativa. Non ci sono gli strumenti, dici te? Non ci sono gli strumenti. Io sono andata l'ultima volta, purtroppo ho potuto diagnosticare due tumori, però mi sono trovata in difficoltà perché dopo non si poteva fare, oltre che la diagnosi non si poteva fare grandi cose, perché mancano i medici, mancano gli ospedali, mancano gli specialisti, per cui il broncopneumologo, abbiamo la dottoressa Salerno, o il Pierluigi Rossi, che è qui con noi, medici come noi, potessero andare in Serra Nelone, potrebbero fare tanto, perché lì mancano proprio i medici. Questi sono i bambini, col piede torto, questa è una bambina anche ratitica, per farvi capire la situazione com'è, e la suora che conosceremo ora, fra poco, è Suor Bertin, che sta con questi bambini. Poi abbiamo aiutato un sacerdote che ha lavorato in Arezzo, gli abbiamo costruito questo lavatoio nel seminario, questi piccoli interventi, e poi dopo ci siamo spostati a voi, Peno. Ecco, le strade non esistono, i mezzi di comunicazioni non ci sono, non ci sono autobus, vero Piero? Non ci sono treni, si viaggia solo con dei bus piccoli, privati, e le strade sono poche, se no ci sono le piste, le piste che collegano questi villaggi, o queste missioni, ma queste piste, la maggior parte del tempo, sono impraticabili. Per cui, anche se Masoa e Voipeno sono due grandi missioni che da un punto di vista di linea aerea, come si può dire? Linea aerea, certo. Sono abbastanza vicine, non ci sono i collegamenti che lo possono permettere. Per cui siamo andati a Voipeno con fatica, perché siamo nel sud del Madagascar, ci sono venuti due giorni dalla capitale, è qui che diceva Piero che non mi lavavo, perché sono stata in una missione delle suore dove non c'era acqua, c'era corrente con un generatore, per cui sono stata una settimana che prendevo l'acqua con la bacinella, mi lavavo in qualche modo, per cui, insomma, noi che siamo abituati, ci sembra una cosa normale lavarsi con la bacinella, insomma, è stata una cosa un po' faticosa, anche se prevedibile. E qui che cosa abbiamo fatto? Qui sono i bambini malnutrite, vedi quel bambino con la diagnosi purtroppo anche nella faccia. Ecco, io ho provato e si sta provando a mandarlo a Nantanarivo, che è la capitale, per vedere se si riesce a trovare un chirurgo maxillofacciale. Ma è un'utopia anche queste cose. Ma la madre superiore del Madagascar che arriverà è a Roma per farsi operare, perché il Madagascar non trova l'ortopedico giusto per l'intervento. E queste sono le donne, le 33 donne che abbiamo, che avete finanziato col microcredito, che hanno fatto queste borse e questi cappelli e di queste 33 donne 7 sono analfabete. E siamo riuscite a fargli fare questi oggetti, a fargli creare una coltivazione di pepe, di vaniglia, di ananas, dandogli solo 20 euro. Per cui vi rendete conto quanto con poco del nostro riusciamo a far tanto. Noi crediamo tanto nelle donne, perché secondo noi le donne sono il motore dello sviluppo dell'Africa. Bisogna aiutare veramente le donne, non perché sono femminista. Poi penso di aver finito. Ecco, qui abbiamo fatto le foto, abbiamo scritto il nome, il cognome, l'età, che famiglia, per poterle ritrovare quando torneremo e per vedere il percorso. Ognuna di loro l'abbiamo schedata, perché bisogna ritrovarla, perché non è facile. Per cui queste sono 33 donne che si sono fatte schedare perché gli abbiamo dato 20 euro. avanti, sono arrivate le suore e qui vedete che l'acqua effettivamente è un bene prezioso. Sì, mentre arrivano le suore può parlare Daniele. Daniele, assolutamente, grazie a Gabriella, l'applauso ci sta tutto. Daniele, Daniele Gelli che ha realizzato questo sito, hai bisogno di stare lì per spiegarlo? Perché sennò ti raggiungo io col microfono oppure te lo passo? Ecco, tutti e due li devi tenere perché con uno ci sentono la casa delle energie con l'altro ad Arezzo TV. Prego. Buonasera a tutti, sono Daniele Gelli, sono il tecnico che ha creato il nuovo sito della Tecaollus. La presidentessa e la Fernanda Azzurli, un consigliere nonché mio referente tecnico per l'azienda, mi hanno incaricato di restaurare il sito già esistente. Quello che ho cercato di fare per tutti è trasmettere e costruire un sito che non sia solamente un sito freddo ma qualcosa che trasmette anche una passione e un'emozione che l'associazione mette nella loro missione nel migliorare la vita quotidiana delle popolazioni di Madagascar. Quindi ho cercato di cogliere come ho detto la passione che mettono loro e cercare di trasformare un freddo sito perché i siti alla fine il calore è relativo in qualcosa che potesse permettere a tutti di poter capire quello che viene fatto e alla fine capire l'importanza della donazione o perché no dell'aiuto fattivo vero e proprio all'associazione quindi non ho fatto altro che prendere il materiale il materiale molto materiale che hanno già quindi tutte le foto dei vari viaggi tutti i vari progetti che hanno e costruire e costruire intorno un cappello emozionale che potesse trasmettere questa passione la struttura è la struttura semplice di un sito perché alla fine fa vedere quello che fanno chi è l'associazione chi è l'associazione specificando scusate specificando nello specifico che lo statuto il sostienici il logo perché anche il logo è stato costruito in un concorso quindi nasce da una nasce da una passione nasce da un cuore di qualcuno quindi non è un freddo logo costruito a tavolino da dei designer per un'esigenza ma è un percorso creativo che dà un qualcosa in più a questa associazione tutti i vari progetti tutti i vari progetti che sono i progetti conclusi e quelli in essere perché come ha detto Gabriella non ci sono solamente alcuni progetti ma sono anni che la tecla è effettivamente in moto per migliorare la qualità della vita delle popolazioni di Manacascar quindi è bene far vedere quello che hanno fatto e quello che fanno quindi un excursus una timeline continua è in crescita qui ancora non c'è il viaggio di Gabriella verrà inserito a breve perché stiamo ancora raccogliendo tutte le informazioni tutte le foto tutti i video che abbiamo perché oggettivamente Gabriella noi eravamo in contatto abbiamo messo praticamente quasi in maniera live le foto che ci arrivavano da giù il materiale che ci ha portato è tanto e molto emozionante quindi stiamo a giorni costruiremo la nuova pagina per il viaggio di Manacascar sì 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 arrivavo arrivavo un fondo anche a quello chiaramente giustamente le news delle serate come questa qui perché ripeto per il sostentamento dell'associazione facciamo serate creiamo serate mi ci metto anche io perché mi sento uno dell'associazione a questo punto perché comunque sia in alcuni mesi di lavoro ho visto la passione sinceramente è un progetto che mi ha legato a loro quindi mi metto con voi mi metto scorrendo scorrendo la pagina scorrendo la pagina abbiamo la nostra la nostra mission quello quello veramente che ci rappresenta abbiamo abbiamo quello che facciamo spieghiamo subito anche a chi non conosce anche a chi non ci conosce i nostri progetti i nostri sostegni fino fino a parlare dei nostri eventi come questa serata e ultimo ma la cosa più importante la parte del sostienici l'abbiamo l'abbiamo ripetuta se navigherete nel sito vedete che è ripetuta molte volte però abbiamo cercato di inserirla sempre a fondo pagina perché se donate lo dovete fare con il cuore non perché è una donazione fredda di chi chiede soldi ma perché ci si deve legare a un progetto a una a una missione che è quella che la tecla porta avanti quotidianamente quindi troverete nelle varie parti del sito l'Iban per fare la donazione di Gabriella dice 10 euro ma diciamo da 10 euro in su il vostro cuore poi farà farà il resto quindi niente questo è un po' è un po' il nuovo sito la nuova la nuova immagine che diamo al mondo perché oggi come oggi il sito è il biglietto la visita è la vetrina che permette di farci conoscere nel mondo non solamente in salate molto belle come questo con un sacco di persone ma anche a chi non ci conosce con un semplice con un semplice link in tutto il mondo anche nelle popolazioni che quelle poche che riescono ad avere un contatto un contatto o internet riuscire a vedere che effettivamente questa questa associazione lavora quotidianamente per loro quindi ecco qua grazie mille a Daniele che insomma la tecnologia è una cosa della quale credo davvero non si possa fare a meno e quindi lui ha portato ecco veramente sul web a tutti gli effetti questi progetti ma diamo ecco davvero con molto piacere il benvenuto alle suore io ovviamente non le conosco personalmente le facciamo presentare così le facciamo conoscere anche al nostro pubblico il suo nome Sor Bertin Sor Bertin sono la superiore della comunità di 24 sore e lavora con noi un padre che voi conoscete forse padre Eugenio Schenato si è capito solo forse l'ultima parte lei diceva che è la madre superiore di 24 sorelle e dove operate? noi siamo a Madagascar ma a sua al sud del Madagascar al sud del Madagascar quindi è la parte diciamo anche quella un pochino più difficile dal punto di vista dei collegamenti come ci spiegava Gabriella ci vuole tanto tempo per raggiungere una zona piuttosto che un'altra sì non c'è internet non c'è wifi non c'è è difficile comunicarsi perché siamo un po' in ritardo essere qua insomma ad Arezzo su invito ovviamente di Gabriella che cosa ci può raccontare insomma della sua esperienza che possa passare attraverso la telecamera ma soprattutto alle persone che sono qua presenti dalla casa delle energie per continuare a sostenere questi progetti a Massua noi abbiamo tante opere abbiamo la scuola di 700 bambini e un centro di riabilitazione dei bambini con piedi torti con dei difetti ai membri inferiori e e poi abbiamo dell'assistenza ai poveri e così l'apostolato una riforestazione per cambiare un po' conservare l'ambiente in quel luogo perché un po' distrutto dall'incendio e l'acqua manca la pioggia è scarsa e così siamo un po' un po' in difficoltà per queste cose allora ma per l'applauso sì sì fateglielo fateglielo ecco la vicinanza di associazioni insomma come Tecla Ollus possono davvero come dire fare la differenza perché poi io credo che la corrispondenza che oggi Gabriella ci dà con loro che operano direttamente in questi territori sbaglio Gabriella sia fondamentale perché sappiamo benissimo che purtroppo a volte alcuni aiuti finiscono un po' così non si sa dove diciamo nella rete per non dire altro e invece questa corrispondenza diretta forse con loro ecco la vicinanza di Tecla Ollus vi dà vi dà coraggio vi dà voglia di proseguire di vostri progetti sì tantissimo tantissimo e la vostra presidente Gabriella è stata venuta e ha visto tutte le nostre esigenze e con generosità ha chiesto di aiutarci a collaborare nell'ambito della sanità dell'infanzia soprattutto perché lì sta costruendo una una casa con il vostro aiuto per i bambini piccolissimi nei primi anni della vita che hanno dei difetti ai membri inferiori e che si può curare bene facilmente senza intervento senza intervento ma non si può non possono essere staccarsi dalla mamma perché è ancora piccola può stare anche seduta se sta più comoda se sta più comoda possiamo dire gli anni non so se ecco prego si può presentare mi chiamo Sor Cesarina una suora trinitaria come Sor Bertina ha detto sono una suora 50 anni della missione a Madagascar abbiamo aperto siamo state una delle prime missionarie a Madagascar adesso sono 57 anni però siccome per malattia vado e vengo ma scusa non hai 57 anni quanti anni la sua età la sua età la possiamo dire gli anni miei sono 82 qui ci vuole l'applauso bello bello sono 82 anni 50 di missione e così abbiamo aperto tutte le cose Sor Bertina ha detto e mi sono trovata bene e ne risento sento la mancanza diciamo lei è qua e sente la mancanza di quei luoghi giustamente perché ci ha dedicato una vita intera insomma li ha visti cambiare nel tempo questi paesi si 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 come cambiate molto molto cambianti perché quando si entra nella missione e vede quei volti sorridenti quella gente che si accosta che poi ti aspettano qualche cosa che vogliono anche un piccolo una piccola parola di qualcosa e soprattutto abbiamo cambiamento con la con le scuole perché quando siamo arrivate noi nel 62 la nazione andava un pochino meglio però nella campagna c'è molto molto alfabetismo molte cose nella nella gioventù soprattutto le ragazze si perdevano i bambini ancora 10 anni materno oppure e da allora abbiamo cominciato subito con la scuola e la scuola è stata una risorsa perché i bambini hanno cominciato a vedere come si come si viveva entusiasmi e abbiamo avuto dei successi che piano piano siamo arrivati a mettere le medie e il liceo e poi abbiamo avuto l'assistenza come si dice l'assistenza alle donne le mamme di famiglia e soprattutto la gioventù con la scuola di cuscito assistenza alle mamme la scuola per la donna poi l'ambulatore e insomma in pochi anni in tre o quattro anni fino al 64 65 ci siamo sistemati così che l'agenda ha avuto tanto ma soprattutto la scuola ha avuto tanto benefici perché tante vocazioni sono uscite tanti sacerdoti tanti alunni che hanno cambiato vita hanno cambiato mentalità che prima non erano né battezzati né avendoci un certificato di nascita non avendo insomma abbiamo visto che c'è stato veramente un cambiamento però non è cosa nostra il Signore ha seminato e lui ha innaffiato e ha fatto progredire e allora siamo fatte conosciamo anche l'ultima sorella insomma che ha raggiunto qui la casa sì sì ce la faccio ce la faccio grazie la casa delle energie però insomma tanti progetti ma ovviamente c'è sempre bisogno di sostegno ricordiamolo Gabriella perché qui 10 euro l'anno di Tecla Hollus a noi insomma ci servono sempre quindi ricordatevelo con soli 10 euro l'anno tutto quello che loro ci stanno raccontando insomma si può sostenere ecco conosciamo l'ultima sorella prego mi chiamo Sola Edvige Trinitaria di Roma insieme con la madre Cesarina e Sola Bertina sono insegnante alla scuola di Massua ma adesso sono in Italia per studiare quindi quindi a sua volta insomma sta studiando che cosa studia? Scente religiosa sta diciamo continuando il suo percorso formativo poi tornerà in Madagascar? Sì insomma rispondono questo sì proprio come davvero quei luoghi ovviamente gli mancastro ma credo che sia normale anche Gabriella penso presumo dopo il tuo primo viaggio sei tornata intanto cambiata questo lo immagino qui mi sa che e poi soprattutto insomma sono luoghi che davvero ti rubano il cuore senz'altro veramente ci lasci il cuore e quando abbracci uno di quei bambini che segue Masuasua Albertin ti rimane dentro è difficile non pensarci più assolutamente ecco tanti prego prego assolutamente ci spostiamo ecco lascio un attimo questo microfono ci possiamo spostare Gabriella da quest'altra parte ecco qua vieni raggiungimi raggiungimi pure Gabriella perché così il pubblico ah adesso si è già occupato allora di quello che poi sarà diciamo la nostra apericena buffet come lo vogliamo chiamare bisogna che ci raggiunga lui perché io ho il cavo un po' corto ieri Massimo non era dire niente no vabbè però insomma ci permetti a Gabriella noi di ringraziarti quantomeno diciamo questo che è un piacere poi lei mi ha adottato per questa cosa che non posso mai dirgli di noi allora tocca sempre correre bravo grazie allora anche a Massimo Rossi Gabriella volevi un po' sollecitare il pubblico perché insomma avere a disposizione le sorelle e potergli magari chiedere qualche informazione qualche curiosità dei progetti che poi loro stessi sostengono mi dovreste raggiungere qua sì abbiamo il filo corto eh vabbè questo è il bello della diretta d'altra parte allora Monica sì prego sì intanto buonasera a tutti e benvenute alle suore è un piacere insomma avervi qui con noi io vorrei fare una semplice domanda insomma alle suore è vero che ancora oggi nel 2018 chiaramente nei villaggi non c'è accesso all'acqua potabile e le persone i bambini vivono per un piatto di riso al giorno quindi si vive una condizione di povertà assoluta in più ci sono appunto la seccità gli eventi climatici catastrofici come ad esempio gli uragani quindi tutte queste condizioni portano le persone talvolta alla rassegnazione anche a di come a il malaga ma madagascar ma insomma insomma fa Buonasera, mi presento, sono Luciana, sono del Madagascar e vivo qua da ormai un po' di tempo. Ecco, quindi per quanto riguarda la situazione nel Madagascar, lei stava dicendo che non tutti hanno la possibilità di avere l'acqua potabile, ecco. Soltanto alcuni privilegiati che sono stati, diciamo, aiutati dall'opera di bene che fanno gli altri. Quindi non tutto il paese ha la possibilità di bere l'acqua potabile in questo momento. La ragazza aveva chiesto se questo è un motivo di scoraggiamento, anche per chi magari interviene, per chi comunque porta avanti questi progetti, proviamo a tradurglielo magari. Ma è sempre che sono stati, non sono stati, non sono stati, non sono stati, non sono stati. Grazie a tutti. E' vero che la gente è povera ma questo non impedisce comunque allora di andare avanti sempre, anzi gli dà la forza di andare avanti sempre di più per affrontare la situazione attuale. Insomma io un applauso glielo farei sinceramente perché io credevo che la risposta poteva anche essere un'altra, ci si può anche ogni tanto perdere d'animo. Gabriella continuiamo con le domande o voi? Ecco, mi dovete però raggiungere qua, chiedo scusa. Ciao, buonasera e grazie innanzitutto per essere qua. Volevo fare una semplice domanda, quanto l'istruzione, cosa possiamo fare noi per aiutare l'istruzione? I bambini hanno un percorso obbligatorio, come c'è un ruolo dell'università, visto che ci ha detto prima Gabriella Rossi che servono dei dottori, come pensa quindi che si può aiutare in questo senso dell'istruzione? Grazie. 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 Gabriella, siccome la Gabriella ha detto diamo forza alle donne in questo paese, ma il loro ruolo oggi qual è? Possiamo far rispondere lei, glielo traduciamo? Sì, praticamente la situazione non è del tutto rosa per quanto riguarda le donne perché loro non hanno nessunissimo valore nell'ambito della società li possono anche scambiare come fosse merce e in pratica avrebbero bisogno delle donne semplicemente per fare i bambini e basta finisce lì, non a voce in capitolo Ecco, insomma, questo è un bel cazzotto nello stomaco devo dire la sincera verità ovviamente poteva essere... però credo che il... Scusate, aggiungo che questo fatto è nel sud del Madagascar nella situazione in cui si trova San Bertino in questo momento Madagascar è grande è due volte più grande dell'Italia cioè, sia chiaro quindi nella parte della capitale ovviamente è tutto un'altra sì prego lei è d'origine in Batundasaka che a pochi chilometri dalla capitale da Antananarivo lì le cose cambiano completamente perché una donna ha lo stesso valore di un uomo e può essere sia un insegnante che anche ministro o qualsiasi cosa può avere qualsiasi lavoro che riesce a ottenere però lì c'è l'istruzione dice tutto ma stiamo parlando della capitale che sta a 600 chilometri quasi dove si trova San Bertin certo, certo però ecco forse proprio per questo il progetto che prima ci illustrava Gabriella del microcredito forse acquisisce diciamo come dire un'importanza ancora maggiore non solo perché magari queste donne sono delle mamme e sono delle madri di famiglia insomma però soprattutto proprio per questa condizione prego ma noi infatti abbiamo iniziato nel Madagascar nel nord a Nosicomba abbiamo costruito una fabbrica di cioccolata al porto delle piroghe poi ci siamo resi conto che il nord tutto sommato se la cavava abbastanza bene per cui ci siamo spostati nel sud e siamo andati a Masoa e Voipeno perché lì veramente è l'anello più debole di una catena debole cioè abbiamo con fatica e con tante difficoltà selezionato le nostre persone di riferimento nei paesi più poveri dove praticamente nei villaggi dimmi se sbaglio il 70% delle persone vivono sotto il livello di povertà il 70% sotto il livello di povertà vuol dire che la situazione è veramente brutta è vero o dico una cosa per un'altra cioè noi siamo ora nel sud con tanta fatica siamo riusciti ad arrivare nelle zone veramente più povere dove la situazione del Madagascare è diversa da quella del nord per cui le realtà anche sociali sono completamente diverse bene allora vediamo ecco c'è un'altra domanda ci dovrebbe raggiungere grazie perché non riusciamo a con il filo ecco se si gira di là così la vedono e la sentono anche ad Arezzo prego buonasera mi chiamo Sergio Vidini una parentesi ludica sono stato in Madagascar però la parte nord è solo in un villaggio italiano quindi conosco una sola parola credo che sia matemate lì piano piano no? Mura Mura scusate è un pezzo che non ci trovo comunque niente per dire che insomma la situazione al nord è un po' meno volevo solo sapere ho sentito parlare da qualcuno sulla riforestazione perché io ho letto qualcosa della distruzione delle foreste per favorire la nascita delle canne da zucchero se non ricordo male situazione che ha distrutto praticamente sono stato anche all'isola di Mauritius e la stessa cosa anche lì hanno distrutto tutto per fare le carne da zucchero e ora non riescono più ad andare avanti come è la situazione della riforestazione che era importante ed è importante tuttora per lo sviluppo del Madagascar grazie scusate grazie mille a lei grazie a lei glielo traduciamo grazie a lei Grazie a tutti. 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 No scherzo. Grazie a tutti. 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 Allora, mi stavo chiedendo, su questa osservazione delle donne che costituiscono un po' la base culturale in molti paesi dell'Africa, che possono, queste donne, alzare l'orizzonte rispetto all'attuale situazione, la mortalità infantile. Cioè, quanti bambini sopravvivono? Com'è il parto in una realtà difficile dove manca anche l'acqua? Che cosa succede nel quotidiano? Essere concreti. Poi, per quanto riguarda il ruolo della Fraternita, la Fraternita svolge un ruolo sostanzialmente di tutela sociale della nostra città, però noi assistiamo anche molte persone. Accoglieremo l'iniziativa di Tecla il 24 di marzo nel Palazzo di Fraternita, come abbiamo fatto l'anno scorso con il biscotto dell'Africa, quindi siamo vicini. Abbiamo, con molta anche riservatezza, perché poi posso dire che abbiamo dato un contributo alla Tecla stessa, come diamo contributo alle altre associazioni che operano in questo settore. Quindi, noi ci siamo e ogni volta che Tecla ha bussato alla porta, al portone di Palazzo di Fraternita, il portone è sempre stato spalancato. Ecco, bella, bella questa testimonianza. Sì, sì, c'è anche il Presidente del CRAL che magari possiamo già invitare a Luciano Capurale a raggiungerci. Perché ha bussato anche la sua porta. Perché dice la Gabriella che non è difficile crederci, ha bussato anche la vostra porta. Guardi, ci raggiunga di qua, se no la telecamera non riesce a inquadrarla. Ecco, il Dottor Rossi chiedeva appunto di questa giornata. Sì, della mortalità del parto è una mortalità molto alta. Il 40% delle persone possono morire di parto. Non so se il Sor Bertine mi conferma. Nella sua struttura c'è un dispensario. Lei ha una missione, praticamente, se fai le passeggiate intorno alla missione non c'è niente. C'è dei piccoli villaggi intorno, poi per andare a Yoshi, che è la città più grossa. Ci sono 23 chilometri, c'è solo una pista e a volte ci vuole 4-5 ore per fare 23 chilometri. Se poi piove non ci si fa nemmeno e non ci si fa neanche arrivare, per farti capire dove è il suo contesto. Nel suo preventorio a volte si fanno i parti. C'è una sua ora che è dedicata proprio al parto. Però la mortalità è molto alta, nell'ordine del 40%. Mi sposto verso Marco Dac. Grazie per mi facilitate perché ho questo filo stasera. Sì, lei è la mia assistente perché la mamma lavora anche di domenio. Lavora, è un piacere per me essere qua e quindi almeno gli diamo anche il buon esempio. Insomma, quantomeno ci proviamo. Marco, è un piacere ovviamente averti qua. Io quando ascolto queste storie, che poi non ho mai vissuto di persona, l'ho sempre sentita comunque raccontare da Piero Franchini, da Gabriella, insomma da tutti coloro che poi comunque anche vanno in questi luoghi, dico sempre una cosa, io non potrei andare, ma non perché io proprio davvero, adesso già mi viene, o me li porto a casa o se no io non riuscirei proprio personalmente, umanamente ad andare lì e vedere questa sofferenza e poi tornarmene a casa e vivere la mia vita, tra virgolette, normale. Poi viviamo un po' una guerra anche noi tutti i giorni, però molto, molto diversa. Non so se è la stessa sensazione che hai tu o se hai avuto anche invece un'esperienza personale. Scusa se ti chiedo questo passaggio proprio più personale che non, diciamo, come rappresentante delle istituzioni. Ma no, non ho avuto nessuna esperienza personale, devo dire invece che va ringraziata la dottoressa Rossi perché è una straordinaria animatrice di questa esperienza. Ognuno di noi può dare con la propria adesione, come ho fatto io, aderendo all'associazione, partecipando alle iniziative, dando il proprio contributo, che non è solo economico, anche di partecipazione, è un segnale perché questo grande continente nel quale spesso ci interroghiamo ha davvero bisogno di aiuto. E tra l'altro bisogna anche ricordare che c'è tantissima solidarietà, ma spesso la solidarietà e tante esperienze è nata anche negli anni Ottanta, spesso si perdono i mille rivoli, invece a volte la solidarietà rischia di raccogliere risorse e poi queste si perdono in burocrazia e in spese inutili. Invece questa è un'esperienza che arriva direttamente alle esigenze di questi territori che di esigenze ne hanno come rappresentato stasera, ma anche in tante occasioni ne hanno tante. E quindi credo che vada ringraziato l'azione di questa associazione perché lo fa davvero in meia disinteressata, ma tutto quello che raccoglie poi lo fa diventare fatti concreti. Non è sempre così nel mondo della solidarietà, che è un mondo vasto, variegato, e questa è una terra abituata a fare solidarietà, però a volte bisogna anche che gli sforzi che cittadini fanno con la volontà di produrre risultati importanti a favore di chi ha più bisogno devono invece arrivare a destinazione. E questa credo sia un'esperienza, da questo punto di vista, davvero positiva. Bene, grazie allora anche a Marco Donati per questa sua presenza, che insomma avere un rappresentante del Parlamento che fa parte di questa bella serata in cui stiamo raccontando. Diceva Gabriella che ha bussato anche alla vostra porta. E allora voi come avete risposto? Molto volentieri, come sempre il Cral apre le porte per queste iniziative puramente sociali. Poi Gabriella è una persona cara a cui non potevo non essere presente e partecipare a questa iniziativa che mi sembra di capire che ha un'importanza, io non la conoscevo proprio, non ho mai partecipato, ma ho visto che c'è molta partecipazione e vabbè, insomma, l'impegno è importante e serio. Quindi grazie alla Gabriella, grazie alla sensibilità degli aretini. Grazie a tutti perché lui è il presidente del Cral dell'ospedale, per cui ci si conosce dalla vita, ho sempre bussato da anni e sempre mi ha dato i soldi, però è la prima volta che viene, per cui è la prima volta che si rende conto che mi aveva dato bene i soldi. Grazie. Sì, perché credo davvero che, grazie mille, che una serata come questa Gabriella serva proprio a chi sostiene, i progetti di Tecla, perché? Perché tu fai, cioè ci porti, diciamo, in un viaggio ideale, no? Nel Madagascale. Non sono solo io, dice alla vicepresidente. Ringraziamoli un po' tutti. Tutto il direttivo, perché c'è tutto il direttivo che è qui presente, per cui non posso dimenticarmi della mitica Flora, della Tiziana, della Roberta, della Fernanda. Se ci volessero... Non ci potrebbero raggiungere, allora la telecamera vi ha già un po' scovato là nel pubblico. Se potete venire... Però se ci raggiungete... Tutto il direttivo di Tecla. Perché mi farebbe piacere far conoscere le facce di Tecla che manca solo la nostra altra vicepresidente, che è la dottoressa Maria Laura Pisley, che è di Roma, che non è potuta venire e si dispiace, perché noi abbiamo... Venite per cortesia due vicepres... Abbiamo un presidente, che sarei io. Due vicepresidenti, una è la Nadia, una la Maria Laura, poi abbiamo una tesoriera, che è la Tiziana, poi abbiamo la segretaria, che è la Roberta, poi abbiamo i consiglieri, che è una è la Flora, la Luciana, che ha fatto la traduzione, la Fernanda Zurli e la Susanna Curion. Praticamente siamo tutte donne. Eh, infatti lo stavo notando. E poi abbiamo delle simpatizzanti, che come la dottoressa Salerno, la nostra bronchopneumologa, la Giulia Menci, spero anche l'Anna Maria Pellegrini, sono delle simpatizzanti, che cerco di cooptarle. Di accalappiare, di farle lavorare, insomma, per Tecla, ma sono qua e sono sicura che lo faranno. Vediamo se... Eh, sono un po'... Eh... Si vergogna... No, ora proprio di peso, non esageriamo, però... Però, ecco... E poi devo... Carmela. La Carmela Zuppa, voi dovete sapere, che ha fatto una torta meravigliosa, è una sostentrice di Tecla, e è una torta per cento persone, e vi devo dire anche un'altra cosa, che Colostia ha fatto, la cartina del Madagascar, e il logo di Tecla, da poter mettere in questa torta enorme, per cento persone. E l'artefice è la Carmela. Allora, Gabriella, siamo in... A lei è la vicepresidente, è tanto piacere, noi ce l'avamo viste prima, nel dietro le quinte. Sono scappate, come hanno visto avvicinarsi il microfono, sono scappate. Allora, la Gabriella Rossi è un vulcano, lo sappiamo chi lo conosce, penso chi la conosce lo sa benissimo, ma è quindi una prerogativa anche delle tue collaboratrici, immagino che anche la vicepresidente sia vulcanica come la Gabriella, corretto? Sì. I miei amici confermano, vero? Infatti mi chiamano Polverone, dico, speriamo che non lasci solo polvere, ma anche falcefatti. Comunque, no, grazie veramente per tutti gli amici e veramente le sorelle che sono qui con noi, la Presidente che grazie al suo viaggio è riuscita, perché è grazie al suo viaggio che siamo qui, perché poter toccare con mano e riportare è fondamentale. Io sono stata molti anni fa a inaugurare la casa dei bambini ciechi, un'esperienza toccante, devo dire, quindi è più a volte quello che ti ritorna che quello che dai, però anche se uno dà poco lì, come abbiamo detto, è tanto. Per cui grazie per la vostra presenza e veramente passiamo tutti insieme una bellissima e preziosa serata. E grazie alle sorelle che sono qui con noi. Grazie a tutti. Allora, Gabriella ci voleva ovviamente dire... Allora, io volevo ringraziare ancora Piero Franchini, Giuseppe Marconi che con Marco ci aglieteranno, perché ora inizia il momento Giuseppe, inizia il momento conviviale e inizieremo a mangiare e ci sarà di tutto e poi potremo ballare grazie a Giuseppe e a Marco fino alle 11 di sera. Eh sì, perché lui è l'uomo. Ci mandano a letto presto stasera, meno male. Perché lui è l'uomo del ballo e notoriamente del canzi, del karaoke, non del ballo, precisiamo, del karaoke. Allora, caro Piero, questa serata è stata quella televisiva, non quella qui alla Casa dell'Energia. Insomma, una tua idea, quella di portare Tecla insomma al di là delle telecamere. Questa poi sarà ovviamente un contributo televisivo che sarà a disposizione dell'associazione. Magari ve lo potrete rivedere anche proprio nel sito di Tecla Ollus. Allora, questa era ovviamente una diretta, magari la ritrasmettiamo già anche lunedì alle 21. Esatto, secondo me sì, sarebbe importante perché? Perché, prima di tutto, perché ringraziamo questa gente e io ho fatto anche delle immagini dove, se è possibile, potremmo vedere anche questa gente. Certo. Soprattutto che voglio vedere la festa, voglio vedere che fate. Quando poi si spinge la telecamera, io non lo so, però vediamo. Però, quello che mi raccomando è questo. Credete nella dottoressa Rossi perché quello che ha detto è la pura e sacrosanta verità. Io ve lo confermo perché sono stato lì tanto tempo, circa 14 mesi, e quindi so come vivono e so come ho consegnato nel mio piccolo 25.000 occhiali, tutto gratuitamente, chiaramente, e quindi ho cercato di fare questo bene che effettivamente ognuno di noi dovrebbe fare perché è veramente necessario e poi sicuramente ci si sente meglio perché, come dice la Gabriella, ci prende l'anima. E quindi, ecco, io, a me, oltre che l'anima, mi prende anche il cuore. Allora, Gabriella, sì, conosciamo altri volti. La dottoressa Salerno e... Sono Giulia Menci e sono una delle simpatizzanti di Tecla. Per me è un grande onore essere qua, essere, sostenere Tecla, aiutare Tecla, e è un grande piacere essere amica e conoscente della dottoressa Rossi perché Gabriella è una persona che tutto quello che fa lo fa veramente col cuore e quindi dà tanto sia qua, sia, immagino, le foto che ha fatto vedere e l'esperienza che ci ha raccontato Giù quando abbraccia questi ragazzi, quando è con loro. Sicuramente tutto quello che fa lo fa veramente con tanta passione e con tanto amore. Quindi per noi è un piacere essere simpatizzanti e sostenere Tecla. Grazie mille della sua testimonianza. Grazie anche alla dottoressa che non so, non so se ci voleva due parole veloci. Io conosco Gabriella come collega, come donna, quindi ovviamente io lavoro per la sanità italiana, per cui è un'offerta assolutamente alta e una realtà completamente diversa. Abbiamo bisogno di tutto e di tutti. Loro hanno bisogno sia delle figure professionali mediche, ma anche infermieristiche che possano un attimino sopperire a delle gravie mancanze. Gabriella prima diceva si muore di cose semplici, si muore di una pulmonite ma si muore anche di un raffreddore, di una banale influenza. Non c'è fascia d'età protetta e questo è un grave rischio per il futuro di questi paesi. Per cui sensibilizzare la città di Arezzo, ma sensibilizzare tutte le persone che possono dare un semplice aiuto, e tanto, perché poi di fatto crea possibilità, possibilità di cura, possibilità di lavoro, crea progetti da speranza. È inaccettabile dover morire di pulmonite, perché io mi occupo di pneumologia, è inaccettabile davvero. Grazie mille dottoressa, una giovane dottoressa tra l'altro all'inizio della sua carriera, quindi davvero un grosso in bocca al lupo. Che dire Gabriella, dobbiamo salutarci, ti chiedo di raggiungermi assolutamente, ringraziamo, magari dando anche la possibilità alla telecamera, di allargare un attimo le inquadrature, ringraziare le sorelle che ci hanno raggiunto, insomma hanno fatto tanti chilometri, per portarci questa testimonianza. Grazie a tutte le persone che hanno accolto il tuo invito, ma era ovvio che fosse così. Io ringrazio veramente di cuore tutti voi, amici vecchi che sono tornati di Tecla simpatizzanti, amici nuovi. Ho visto un grande interesse, una grande attenzione a questa discussione, mi fa molto piacere. Ringrazio in particolare Suor Bertin, la giovane Suor Cesarina, e Suor Edwige, perché Suor Bertin si dovrà operare ora a Roma, ma poi tornerà a lavorare. Purtroppo Suor Cesarina ha dei problemi di salute, però credo che tornerà in Madagascar, e Suor Edwige tornerà ad insegnare nelle scuole di Masua, tornerà sicuramente. Per cui vi ringrazio tutti, e da ora in poi si mangia e si balla con musica, perché a noi le serate di Tecla ci piace l'aspetto culturale serio, ma poi ci piace divertirci, come dice la nostra Nadia Conti. Bene, io vi ringrazio anche a nome di Arezzo TV per averci coinvolto, e soprattutto ricordate, con 10 euro all'anno si può sostenere Tecla Ollus. Grazie a tutti dell'ascolto, e alla prossima. Grazie Gabriella, arrivederci. Grazie a tutti. Questa vita è ormai malata, lo sai, violata e intossicata adesso, anche lei. Sotto questi geli lividi, niente più carezze e brividi per noi. Che andrebbe di cambiare il mondo con me, di riprovarci un'altra volta io e te. Proprio come gli eri così incoscienti, curiosi, intriganti, concludenti. mai giuro, la nostra immagine è più vera. Dov'è questo foglio anonimato? Perchè? Perchè? Incomportabile l'idea di subire, questa ignoranza che ci vuole più uguale a lei. non fa per me. Era tutta un'altra storia, lo sai. Lo sai. E' un nemico la memoria, lo sai. Il potere annibbia gli uomini, il denaro certo non li sazierà.